Ma io credo che bisogna far fare le indagini a chi deve svolgere le indagini e verificare se eventualmente ci sono ipotesi di reato e qualora ci fossero poi ovviamente saranno i tribunali a decidere se sei colpevole o meno. E la politica deve fare la politica. Io di fronte a un avviso di garanzia non me la sento minimamente già di dare un giudizio. Fare i processi sui giornali è la cosa peggiore che ci possa essere. La raccolta differenziata è un elemento importante, è un modo anche per rispettare l'ambiente e la campagna può essere anche un punto di avanguardia laddove ci si convinca che questa è la strada migliore. Noi non accettiamo l'idea di una politica che esasperi o sulle faccia a gara appunto a chi riceve l'avviso di garanzia e a definirlo impresentabile. La Costituzione fino a prova contraria dice che fino alla condanna definitiva a uno innocente credo che dovremmo confrontarci tutti o contestare il governatore De Luca se sta governando bene o non sta governando bene nella regione. Se il ciclo di smaltimento dei rifiuti funziona o non funziona, smetterla di pensare che quando uno arriva a un avviso di garanzia si stappano le bottiglie di champagne così si pensa di poter prendere un voto in più. Credo che questo allontani solo i cittadini ancora di più dalla politica.